buona sera buongiorno non so bene quando lo pubblicherò e benvenuti bentornati su fallow76 che intro del cazzo no allora sono 3-4 giorni che non riesco a giocare per motivi elevati alla scuola e dovremmo seguire le tracce di madigan quindi andare qui allora perché io non ho spazio o meglio perché 174 su 100 ma io non avevo tipo 180 una roba del genere Dio mio che casino io ti direi che posso io ti dico che sposto il camp e io sposto il camp e metto tutto qui vediamo se ho modo ossia accetta 10 tappi va benissimo tanto ne ho un paio e trasferisci allora deposita tutti i materiali e comunque non mi basterebbe livello 20 lo mettiamo momentaneamente lì e anche questo momentaneamente lì 147 puttana troia e direi che possiamo proseguire qui ce l'avamo già stati giusto ce l'avamo già stati pari di si c'è nulla di troppo ok si pari di si allora dobbiamo proseguire andiamo qui questo che cosa sta cazzo è? indaga presso la rilotte mi picchiano scoperto il trattamento torquere tiger no io vado via perchè credo di non aver il cazzo abbastanza lungo per poter combattere qui benissimo andiamo avanti buongiorno quanto ci manca al ok mac allora il nostro personaggio è meraviglioso perchè abbiamo una maschera anti grassa? ma via occhiali con montatura nera eccoci qua cos'è un giocatore? cos'è un giocatore? la luce divina ti ha trovato no aspetta no via no via ma che cazzo ma eh vi entra tua mamma rientra qui posso rientrare nella mia ultima morte? no rientro eh rientra qui ha cominciato a tirare i miei granate a caso poi si è attivato lo spalve senza che io premessi nessun tasto perchè avevo che palle io volevo premere il tasto Q non non lo spalve cazzo me ne faccio dello spalve Q volevo premere guacchia puttana eh 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 guardami riproppare tutto quanto è successo niente è successo niente è cosa che capita che ore le sono? le 7 del 26 marzo io sono certo che ci siano molti migliori per passare il sabato sera rispetto a quella folla o 76 forse questa cosa l'ho detta anche due minuti fa ok me lo ricordo più non sono fanculo cazzo è successo che non ci sono più che non ci sono più sta cazzo sono morto io tra l'altro era tipo qui no? aia era tipo qui? aiuto e perchè mi attiva perchè mi attiva lo spalve? ma ok ok che speranze credere contro il divino potere dell'uomo falena ah cazzo voi siete quelli dell'uomo falena e per l'eternità altri prenderanno il mio posto oh vuoi e le vostre granate di merda vuoi e le vostre granate di merda ma la mia sacca spada 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 sì qualsiasi sta cazzo di cosa voglio dire spada sci cos'è una spada sci spada sci ha messo a livello 15 la teniamo noi la teniamo noi la teniamo non fa mai male roba in più ehm ma perdonami ehm vai a fare in culo non trovo la mia sacca questi sono gli stonzi dell'uomo falena io me l'ho dimenticato radio del top of the world è vero ci stiamo dirigendo esattamente lì sincronizzati sincronizzati sintonizzati magari sul segnale radio del top of the world ti dirò no dato che ci devo andare direttamente come si entrava il top of the world the world non ne ho idea allora secondaria è vero poi affanculo poi indaga per solo 8 e 20 che cos'altro no no oh questa e basta via tutte le altre ca teoria allora prima di ritornare prima di andare in realtà di nuovo la saprintendente dovremmo raggiungere il livello 20 noi siamo di livello 12 ci manca ancora un pochino non così tanto non così tanto non così tanto come si potrebbe pensare però ci manca ancora un pochino quindi no no conto beh siamo qua nel senso quello non è un punto noto no 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 perché vabbè campamento sciistico pare che sembra una casa dei vichinghi di Assassin's Creed Valhalla ma la casa lunga dentro la mare ardenti mi piacciono gli ardenti con la cuffietta fanculo ok ok questo secondo me è il posto giusto per delle forcine banco da lavoro per armi secondo me è il posto giusto per delle forcine oppure no è stata una buona scena mi sono piaciuto no lanterna mi chiede abilità 2 no no perfetto arrivederci ok è un punto noto in più acqua purificata è invece l'acqua la prendo l'acqua la prendo ok non si vede più una sega possiamo andare avanti ma io non capisco se sta sorgendo il sole non lo so non mi è particolarmente chiaro ma va bene così intanto dietro di me sta facendo notte ma ci sta sono le 7 e 7 non è male anche sparare in terza persona vabbè c'è un po' di ritardo ok certo non posso affrontare delle scene action in terza persona però regione scoperta scissione selvaggio no 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 che cazzo com'era che smetteva di no 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 ma io non capisco se si sia buggato o no ok com'è deathclaw veloce veloce e vederci e vederci deathclaw non mi piace deathclaw non mi piace qui c'è il camp di qualcuno tra l'altro benissimo deathclaw non mi piace proprio per niente è una delle parole che più odio tutto dopo quell'esperienza di merda per quello che era il cazzo ecco lì proprio la quale deathclaw è scesa ehm c'è parecchio potenziale in questo posto tieni gli occhi aperti non si sa mai chi ti stia osservando ma una moto sega è troppo umido per stare fuori nooo i freddoventi e' meraviglia io la tengo io la tengo velocità molto alta la tengo non stai scherzando ma è stupendo posso ehm privarmi di questo delle volvere artigianale poi del no del fucile artigianale posso privarmene si perchè magari si trova di meglio va bene posso fare tipo le stonzate alla skyrim passare da qui su no va aiuto 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 come sono morto ma non oh mio dio rientra qui ehi eccoci ehm allora noi abbiamo ho appena detto noi abbiamo un ardente ha ribattuto con noi e mi sono spaventato comunque io devo oltrepassare le montagne dovevi mettermi qua posso metterlo un segnalino qui ok ok perchè una volta superate le montagne nel senso mi metto nei posso parlare mi metto nei binari e poi cazzo è successo e poi prendo da lì quella strada sperando sia fattibile mio dio i miei capelli sono terrificanti va bene sperando appunto sia fattibile in caso contrario mi ammazzo senza mezzi temi posso ma che belli le aziende sono un sacco sia in senso positivo che in senso negativo or dunque io vorrei evitare di il buttino caduto eh vabbè no da lì non cazzo non posso fare una cosa alla blasphemous no invece che ritornare lì in un posto terrificante vabbè che non so bene cosa tutto ho perso non credo di aver perso grandi cose perchè il peso è sceso da 156 a 155 quindi non avevo perso tantissimo avevo perso qualcosina sì senza altro magari qualche materiale si campa ho forcine cosa importante vedi ho quattro forcine l'importante è avere delle forcine or dunque mi devo immettere nei binari fatto questo cosa abbiamo va bene aspetta ma abbiamo un percorsino sulla montagna tipo? eh abbiamo un percorsino qui c'è il sentiero ok dai che ci siamo ai binari dai attiato una allargata è importante anche in 20 minuti ho fatto una passeggiata la vita e il bello di fallout scoperto il nuovo deposito ferroviario centrale dell'appalacchio ci sono degli ardenti non mi ci metto dentro ah no ghoul accendino placato in oro ok tu? nemico? assolutamente si aiuto quanti c***o sono dall'alto? quanti c***o sono dall'alto? ok no ok vabbè ma quanti c***o siete? vabbè ma quanti c***o siete? ok ok ma anche meno voglio dire tappo perché poi mi droppano dei tappi? ok 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 oggi ok no 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 di te non me ne ferò un c***o tu sei troppo birba black water no 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 arrivederci andiamo via però va bene ci siamo 22 minuti abbiamo fatto una bella passeggiata mi è dato proprio notte nel corso del video bene così abbiamo fatto una bella passeggiata in questi 20 minuti posso anche togliere la cosa personalizzata no mi aiuto ah ok un incubo per togliere e camminiamo ancora elimina il cuore della palude prima che si diffonda a livello considerato 35 e ci arriviamo ci arriviamo anche a livello 35 più calma ma ci si arriva non ho assolutamente io fretta di fare queste cose il top of the world eccolo dai su qual è la gente che non sta ah è gente in palata non me lo ricordavo ok ok ma è bullo delle acque sanguinaie ok steampak perché ok spettaka ok ok no cazzo un altro steam pack che dovevo utilizzare meno male ne ho appena preso uno perché la vita è quella che è ancora? no tecnicamente l'avevo fatto dove è altro? no via ok che la fai? grazie e ora prima di entrare al top of the world facciamo un attimo un giro un giro niente di che o meglio beviamo dell'acqua dato che è mi cura e mi disseta allo stesso tempo dovrebbe soltanto di comettresi a su una rebanja steam pack continuiamo 14 ci stanno munizioni di poterci interagire avrei aumentato l'ego alla Duke Nukem Forever sarebbe stato meraviglioso calaveri di pedrone ok il top of the world prima questa stazione stazione di pleasant valley stazione qui ecco questa me la ricordavo deposita tutti i materiali deposita anche alcune armi che tanto non potrei utilizzare per il livello 20 e ora anche questa quanto è di spazio ok tu? vuoi comprare un po' di materiali? ok varie compiamo quante più forcine possibili altro qui bottiglia di nuka cola no sono a posto così a livello di invece usura merda allora cerchiamo di mettere tutte le armi che si possono utilizzare qui quindi preferiti 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 e preferiti tutto va bene tanto poi le riparazioni le posso fare più o meno quando mi pare nastro americano può essere comodo per craftare qualcosa se solo io craftassi bello mi piace i tavoli sono una concezione molto avanzata per questo gioco perché qualcuno ha messo un manichino nel letto che cazzo succede? sta cominciando a dilirare ora riconosco fallout vabbè saliamo verso il top of the world ovviamente non ci renteremo oggi perché sono mezz'ora nel senso perché me lo ricordo pieno di roba pieno di ardenti eeeh eeeh e mi ricordavo bene bella la mia ok ramen con pollo bevi assolutamente vedo sento suoni allora questo posto aveva ok ok non 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 ok ok Ancora? Ok Me lo ricordo Questa zona scistica o qualsiasi cazzo fosse il suo nome Si Me lo ricordo Allora Tappo l'avanciafiamme non l'aziono perché ho paura che poi vada ad influire anche su di me e lo vorrei evitare acqua purificata bevi barbon bevi correttamente random Ho fame e sete? No, sono a posto Obbiachiamoci un pochino Poi quell'altra zona si andà a esplorare in seguito perché ora c'è il top of the world Entriamo magari qui Sì Io ti ricordo Ok Eh aspetta Quanta cazzo di gente è spawnata? Mi ricordo di te Rose Vabbè ma è pieno di gente aiuto Eh Ho bisogno di migliorare il mio sistema di trasmissione Il segnale è troppo debole Lo so è vero Avevo trovato il progetto di un ripetitore di segnale radio Andasso Un soccorrettore morto vicino a Selecarox L'idea era di installarlo su quell'enorme parabola dall'altra parte della montagna allo scopo di potenziare il loro segnale Eh Peccato che non abbia il progetto No E davvero mi sembrava importante Sono stata una stupida non prenderlo quando potevo Tornerai là a recuperarlo ma che vuol dire cosa accadrebbe a questo posto mentre sono io Quei progetti dovrai trovarli tu Costruisci il ripetitore e installalo sulla parabola seguendo le loro istruzioni Facile no? Io mi occuperò del resto da qui Siamo da fuori Tu conosci il tuo nome e io Rose Va bene Va bene Quindi Ci siamo Casa del sopintendente Va bene Di che ci possiamo fermare qua